fino alla fine ci avete provato a rientrare in partita, se volete per Luca Russo forse ci saresti io dico che noi abbiamo fatto da un punto di vista tecnico, tattico la nostra partita ci è mancato forse qualcosa sotto l'aspetto della personalità, della voglia e quindi invece da questo punto di vista il Crotone ci è stato superiore allora vuol dire che noi dobbiamo lavorare, io per primo, da questo punto di vista la nostra è una squadra giovane, nel senso che è nata da poco ha elementi di categoria superiore ma evidentemente tutto l'organico deve ancora crescere quando si perde si perde tutti insieme, il mister per primo abbiamo giocato bene, potevamo giocare meglio ma soprattutto dovevamo avere un atteggiamento diverso il Crotone l'ha avuto e quindi credo che chi vince ha sempre ragione e onore a loro parlavamo di loro, questo le fa onore ma devo aggiungere che sta alla fine grazie a tutti